Sveglia alle 7 e diamo il via a questa fantastica giornata con un bel bicchiere di acqua e un caffè enorme Poi ho fatto qualche faccina domestica e ho scelto l'outfit per andare in palestra Oggi, dopo tanto tempo, non sono sola, ma mi allenerò con Lara Quindi il restauro d'obbligo, oltretutto stavamo entrambe registrando quindi ci stavamo dando fastidio E siamo pronte per andare in palestra rigorosamente in bicicletta e rischiando la pioggia perché visto il tempo che c'è ultimamente Comunque oggi gambe e glutei e questo è un allenamento di Amorfitab che sarà disponibile nella programmazione di agosto Quindi ragazze, questo è un grosso spoiler Ho deciso anche di alzare un pochettino i carichi dello squat e questo è il risultato Però sono soddisfatta perché ci sono riuscita Poi a questo punto arriva il focus glutei e femorali, quindi con un bel ponte glutei E stacco B-Stance, che se non l'avete mai fatto dovete assolutamente provarlo Clamshell come finisher ed eccoci qua distrutte ma pronte per andare a casa Mi sono risistemata e ho fatto colazione con la mia amata bowl Dopodiché sono andata a lavorare fuori perché sono molto più concentrata E sono rimasto qua fino a ora